La bancarotta fraudolenta non è l'unico reato contestato all'imprenditore Campano Salvatore Pianura, titolare dell'omonimo gruppo che opera nel trasporto del petrolio via mare, finito agli arresti domiciliari questa mattina. E' accusato insieme a due collaboratori, Giuseppe Ricci e Massimiliano Coppola, anche loro finiti agli arresti domiciliari, anche di aver dato vita a illecite fusioni di aziende, piene di debiti. Questa mattina i tre destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, hanno fatto visita ai finanzieri del comando provinciale. Le indagini si sono incentrate sulle vicende societarie della Silver SRL con sede a Mestre, appartenente al gruppo Pianura, attiva come già detto nel trasporto via mare ed idrocarburi, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli nel 2009, proprietaria di una flotta con un nome di una stella per ogni imbarcazione posseduta.